Bene, Nevio Prugnoli, Vicepresidente, allora questo accordo la soddisfa? Sì, certamente. Noi come Anam ci tenevamo tantissimo a fare questo accordo con la FITREC e parlando con l'amico qui presente Paolo Sensi abbiamo ritenuto opportuno siglare questo accordo, ufficializzarlo, anche per dare un indirizzo al cavallo maremano che ci sembra che come razza può fare bene su queste discipline della montata lavoro e su tutte le altre discipline della FITREC.